Sono consigliere, dopo la disgrazia accaduta a Ivan, dopo l'assassino, dopo un anno e mezzo dopo la cifra del principio di una strada nuova, in particolare, dopo un po' di mesi, i nostri appari sono astradati di maniera più precisa. La parte maggiore è il risultato del lavoro e della strategia, della pacienza e della determinazione messa in opera dal Presidente Gilles Cimeone. L'occasione di noi di ringraziare la nostra Assemblea, di diversità, di l'analisi e di proposti e di chi ha saputo in cui Gerbo porta il cartolato. Un lavoro da mondo, appuntinato in particolare dai deputati, corsi, qualunque via, a ringraziare di noi tutti i meri e le amiche corsi, o no, che hanno aiutato la sciolta di nostra parte. La scrittura ha pigliato volta il 5 luglio scorso, scrittura votata a maggiorità di tre quarti e oggi la nostra vita. Oramai, il nostro progetto comune è l'autonomia. Ci vuole a pensare che questo progetto ha avuto un certo ribombo, così forte che aveva dato a Marindà, si è inteso nell'Europa zona. Ma ci voglio dire di nuovo, per limitare un po' ciò che si è detto, che ha avuto un po' ciò che si è inteso, che ha avuto un po' ciò che si è inteso. Ma ci vuole fare un po' ciò che si è inteso, che ha avuto un po' ciò che si è inteso. A Vigilia, in prefettura, ci aveva assicurato che ci voglia a scrivere una storia nuova. Oggi non è più una bola, se non vorremmo tutti insieme poesia, una realtà. che si è inteso, allora ci tocca mettere in mano in pasta e fare in maniera che sta speranza maggiore dell'autonomia sia una realtà acquistata dal popolo. In le settimane che vengono, le riunioni avranno sicuramente per fare in modo da fare i nostri proposti in conformità con i nostri choix. Potremmo scegliere la società civile? Potremmo. Edmond Miligi ha sempre oio a in tutto ciò che noi proponiamo, in tutto ciò che noi vediamo, ci voglio affare di maniera da radicare i nostri acquisti e che il popolo ha consentito. dov'ilgeci. Avremmo ci va quindi un consensus popolare? Necessamente. E questa consulazione dovrà finire logicamente se disperare a la fine dei nostri Io per fare che tutto ciò e del senso. Tampi va, vi parlavo di un paese di Canaan in dell'antica età, i mulli di Jericho larghi quanti d'osipo si ne sono trafalati a rambolizona a l'Ignilo. E ci sono anni che noi ogniamo. Di tutti i mani. Oggi la strada è a parte, anche se è stretta, ma a via di Obrato si può acconciare a Zoma senza imbraco né cavizzoni. Ecco, per me c'è una speranza. Grazie. Grazie. Grazie.